28 Agosto 2023 Messaggio della Madonna a Luz de Maria La Russia soffrirà, l'Ucraina sarà sorpresa e nella Chiesa riforme che sconvolgeranno il mondo. Come quasi sempre accade per i messaggi che riceviamo dalla veggente Luz de Maria, leggiamo di terremoti e tempeste solari, oltre a vari altri cataclismi e malattie che invadono l'umanità. Ma c'è qualcosa di molto interessante questa volta in questo ultimo messaggio donato alla veggente sudamericana dalla Santa Vergine. Infatti si parla di sconvolgimenti nella Chiesa di Gesù, sconvolgimenti relativi a riforme che verranno attuate e che molto probabilmente desteranno stupore nella popolazione. Poi ci sono come sempre richiami per la preghiera per vari stati che saranno in difficoltà e in guerra. Leggiamo il messaggio Amati figli del mio cuore immacolato Come regina e madre degli ultimi tempi vi do la mia benedizione, quella che una madre dà ai suoi figli affinché compiano passi sicuri, affidandogli alla volontà di Dio. Figli, siete amati, molto amati da questa madre. Vi guardo ogni momento, anticipo i vostri atti e le vostre azioni per invitarvi ad essere giusti. Poi ognuno prende la sua decisione. Amati dal mio divino figlio L'attimo passa senza che voi lo percepiate. Tutto accade in un batter d'occhio, anche se i miei figli sono troppo immersi nel materiale e nel mondano per rendersi conto che tutto si è trasformato. Guardate il tempo, il sole, la natura, la violenza. Pensate, sentite il messaggio divino. Pensate figli, che ogni chiamata è un sì alla vita. Nella chiesa di mio figlio stanno arrivando delle riforme che sconvolgeranno il mondo. Molti dei miei figli ne saranno confusi. Vivete in un tempo travolgente, perciò non allontanatevi dal mio figlio divino. Siate perseveranti, resistete, siate forti e confidate nella protezione divina. Amati figli, senza dimenticare l'ondata di malattia che avete vissuto, devo dirvi che sarete di nuovo messi alla prova, non dalla volontà di Dio, ma dalla volontà umana. Abbiate tutto ciò che vi ho raccomandato affinché possiate essere sollevati nella malattia. Amati figli, nelle profondità della terra, quando le placche tettoniche si sfregano l'uno contro l'altra, alcune più profonde di quelle che conoscete provocano forti rumori e fanno uscire gli animali marini da dove vivono in cerca di salvezza. Pregate figli miei perché non accada ciò che non è volontà di Dio. Pregate gli uni per gli altri. Per l'America la terra si muoverà. Pregate figli miei, in Colombia, Cile, Ecuador, Argentina, Perù e Brasile ci saranno terremoti di forte intensità. Pregate figli miei per la Spagna che sarà attaccata, per la Francia che sarà invasa, per la Russia che soffrirà e per l'Ucraina che sarà sorpresa. La preghiera eleva l'anima. La preghiera con il cuore prepara la creatura umana ad adorare eternamente la Santissima Trinità in cielo. Vi benedico con tutto il mio amore. Madre Maria Ave Maria Purissima concepita senza peccato